L'amore al tempo del Cardilio, ritratti di una Cosenza di ieri, e questo è il titolo dell'opera prima di Ugo Dattis, presentata a Cosenza nelle sale del complesso di San Domenico. Il libro è un viaggio nel tempo attraverso persone, luoghi, episodi, sensazioni a volte malinconiche di un'epoca in cui il Cardilio era un termine che indicava un corteggiamento così indiretto che spesso risultava incomprensibile e fallimentare. Sostanzialmente l'autore ha voluto raccontare una generazione e il cambiamento negli anni della sua città. L'idea nasce molti anni fa, ho potuto realizzare questa cosa da quando sono in pensione, perché avevo tempo libero per farlo, mi sono voluto dedicare come meritava e devo dire che questa cosa è stata molto gradita, specialmente alle persone della mia età. La storia di Cosenza degli anni 50 e 60 soprattutto, di una realtà ormai dimenticata che io ci tenevo che non venisse però sepolta. È la cosenza del dopoguerra, quindi una cosenza molto più povera di adesso, forse più vera, più ricca di altre qualità che adesso sfortunatamente sono scomparse. Accanto a Ugo Dattis alla presentazione ha partecipato il suo amico di sempre Paolo Veltri, testimone di tanti degli episodi raccontati e che ha curato la prefazione con precise istruzioni per l'uso. È una cosenza che in parte non c'è più, c'erano altri sentimenti, altre idee, altre passioni e non solo perché eravamo più giovani ma perché era una cosenza che usciva dalla guerra. Noi non abbiamo vissuto la guerra, abbiamo vissuto un dopoguerra però bellissimo, fatto di tanto entusiasmo, di tanti pensieri positivi per il futuro e poi siamo capitati in mezzo da protagonista negli anni 60, vi sembra poco questo. È un regalo bello che Ugo ci ha fatto, sono stato felicissimo quando mi ha chiesto di scrivere la prefazione perché i fatti che lui racconta in parte li ha vissuti assieme a me.